Musica Continua per il terzo anno consecutivo il trend positivo sul fronte della lotta all'evasione fiscale e il 2016 segna per l'Agenzia delle Entrate un nuovo primato. L'amministrazione è riuscita infatti a riportare nelle casse dello Stato 19 miliardi di euro, la somma più alta mai recuperata. Di questi, circa 500 milioni provengono dalla promozione del dialogo appreventivo con i contribuenti che ha consentito a tanti cittadini di rimediare per tempo gli errori commessi, pagando sanzioni ridotte ed evitando così l'accertamento vero e proprio sulla base di un nuovo rapporto basato sulla fiducia e la trasparenza reciproca. In Calabria sono 315 milioni di euro recuperati dall'evasione fiscale nel 2016 grazie alle attività di controllo e alla promozione della compliance. Di questi, 196 milioni derivano da versamenti diretti, mentre 119 milioni da riscossioni da ruolo. In particolare, secondo quanto riferito dalla Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate, ammonta 5 milioni di euro l'incasso relativo alle stanze riferibili alla procedura di collaborazione volontaria.